Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video ASMR, in questa nuova serie ASMR The Forrest finalmente mi funziona su questo pc, come se fosse no? Vabbè, ho pensato subito di portarla, ma non subito, in realtà, qui con me, oltre al mio figlio Timmy, se si chiama ancora Timmy Oddio aspetta che posso far Timmy Oltre al mio amico Timmy, nella lobby, sto giocando in cop con la mia ragazzina Mi sono cagato addosso Non ha il microfono, purtroppo C'è un po' di trambusto Dicevo Appunto, lei non ha il microfono, perché purtroppo Il suo computer Di base sventola un casino per far andare sti cazzi di gioia Un portatile particolarissimo Non so se qualcuno lo conosce, se qualcuno mi può aiutare a, tra l'altro, capirne fuori qualcosa Il portatile mi pare che si chiama Acer Predator Helios Neo 16 o 17, qualcosa del genere Comunque dai, iniziamo Allora qui abbiamo la nostra fantomatica ascietta Ottimo, ecco qua Qua c'è il mio, il mio pisellino che in questo caso è un pisellone Ma tu mi sentiamo? Il gioco No, non mi sento neanche qua Ok, quindi non posso comunicare con lei C'è la chat, sì Raccogliamo tutto il raccoglibile In realtà c'è poco tempo da quello che ricordo Anche questo gioco è abbastanza Violento e veloce Ok, vediamo, speriamo Lei appunto è nuova in questo gioco, vabbè ok Ma anche in questo mondo del gaming Ho preso i post attaccato E da qui appunto ragazzi Vogliamo sbloccare un po' di Levi's Oh bello, ci vendiamo sulle nostre E praticamente quindi stavo a T Che adesso appunto inizieranno un po' tutte queste cosettine qua E la porterò In vari mondi Videoludici Vi facciamo assaggiare un po' il panorama Non abbiamo tantissime possibilità appunto Anche giochi insomma E vediamo, vediamo È un'avventura nuova Sono molto casato Lei pure E di conseguenza io sono anche casato Perché lei è casata È tutto un casino Molto bello E soprattutto Ragazzi Non ve ho detto Non lo so Non so se ve l'ho detto o meno Però appunto Sono molto lanciato Lo raccontavo principalmente sull'altro canale ASMR Praticamente Cosa è successo? Ho fatto delle esperienzine lavorative Mi sono un po' rotto il cazzo Sinceramente E di conseguenza voglio Come hanno fatto E stanno facendo sempre più persone In realtà Io personalmente dedicare Cioè cercare di Di Dedicarmi soltanto Ai miei hobby Ai miei sogni Insomma E queste cose qua Perché sinceramente Vedo Perché sempre Cioè proprio È È il periodo giusto Nel senso Sempre più persone Vedo fare Cioè inseguire Quel cacchio che vogliono E ci riescono Quindi secondo me La chiave sta veramente Nel voler Veramente una cosa Farla E via Quindi io semplicemente Appunto Vi vorrei dedicare Adesso Full time Insomma A questi Ai numi gaming Videogiocchi Appunto adesso Anche con la mia ragazza Una patina tennis Poi Appunto I video ASMR For you E come annunciavo Quella Appunto Mi sto impegnando Molto Nel Abbraccio di ferro Insomma Veramente Cioè ma Provo una noia Estrema Una noia Suicida Ormai A Non so come dire A fare altre cose Cioè Non ci faccio più Attenzione Che qua Attenzione Che mi ricordo Di come cacchio funziona Qua Bisogna trovare Una padella Soldi Chissà Cioè Abbiamo vinto Un po' Concentrata Abbiamo già giochicchiato Ci siamo fatti Una piccola Partitina Giusta Per spiegargli Anche a lei Come funziona Il Ergiogo Un paio Di principi Però c'è del talento Eh Vedo che ha capito Sfatto No vabbè Questa era un colpato maestro Qualche piume Magari Volente Ottimo Cioè ottimo In realtà Non so neanche cosa servono Ancora Però ottimo Ok quindi C'è già Della carne Allora Qua si può pensare Voglio c'è di tra l'altro La maggior parte Sono condivisi Cioè Se io raccolgo una pietra Può raccoglierla Anche lei Si esaurisce Alcune cose Però Non tutte Mi ha risposto? Anche lei Aspetta che qua c'è altre frecce, ottimo Mamma mia, curioso l'arco E l'abbiamo perso, no? Niente, non mi vuole rispondere Perfetto, quindi E qui c'è l'airplane Proviamo ad andare Mi pare che una volta usavo questa Technique Ma sono un killer, oh mio dio Inizia a farmi paura Proviamo ad andare, quindi Verso dove punta l'aereo Qua cos'è che abbiamo? Non vedo che tipo di pacche sono Quindi proviamo a mangiare Da posto, allora sono quelli blu A me mi interessa Ma voglio vedere già così No, semi non ce ne sono Cioè io ti spacco Neanche? Cioè non ho capito come si raccolgono i semi più che altro Eh, 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 eh Vediamo Niente Spacco Foglia Marca miseria Dio, dio, sono proprio Le altre cose che mi allucina Di più di sto gioco Capire come cacchio Si fa Sono pieno di medicinali Batterie Batterie Adesso vi tiro la palla di tennis Oh no Scusi Mi scusi Che paccato Mamma mia Niente Niente Sti cazzo di semi Ci rinuncio Oh Wey Oh Oh mio timo qui Come vuoi dire Dartle Posto interessante Abbastanza vicino all'aereo Ah, anche piantine Mi interessa raccogliere Il grande albero Casa qui Allora Vediamo se Mi ricordo che Yes Yes Così Spacchiamo gli alberi Meglio Ok Allora Ok Praticamente A me piace molto Sempre fatto I tempi Questo tipo Poi Sono apertissimo A A consigli Eccetera Perché veramente Non ne so niente Soprattutto della storia Anche ai tempi Non ho mai fatto Molto Questa Bellissima Magari che dà un po' Sul Su sto cazzo Dallo stesso Qua saremo Altini Anche Carina Una roba Oh Sempre in mezzo Sempre Sempre Ok Iniziamo ad abbattere Questi Molto realistico Come gioco Mi piace molto E Mi dispiace molto Che sia già uscito Il prossimo Capitolo Qui Le chiedo scusa Mi sa che è tornato Qualche Duno Mi sa C'è Un tesino Sorry Ok Ok No Non scappare Mi scappa il microfono Ma che vita Chiedo scusa Se sentite un po' Di rumore Ok Forse ci siamo Possiamo riprendere Aspetta che abbiamo anche tante altre cose E una corda Che l'altra volta Nell'altra partita che ho fatto Si era paggato E la corda non me la lasciava più inserire Prima che sia troppo tardi Eccola qua Sta già calando il sole Quindi Sarà una cosa Quanti ne mancano? Oh mio dio Dobbiamo darci una leva Tra l'altro Molto vero Il gioco E tutto quanto Infatti se Se bisogna stare attenti anche Che non ti partano colpi di ascia Mentre sei sulla casa O gli alberi che abbatti Non Non finiscano addosso Perché appunto Te lo rompe Cioè Bisogna riprendere tutto Very arduo Però anche come si costruisce Mi piace veramente molto 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 Realistico Una bellissima Grafica Grafica Comunque Nonostante L'età del gioco Bello Sempre è stato un gioco affascinante Poi ovviamente fatemi sapere un po' cosa ne pensate Qui io inizierò a portare Episodi più brevi Non sono in live su Twitch Sono esclusivi per Youtube Appunto mi Come vi ho detto prima Voglio fare su tutti i fronti Le cose un po' più serie Vorrei concentrarmi solo su quello che mi piace Farlo Tra virgolette al meglio Comunque le cose da fare E che mi piacerebbe fare Rimangono sempre Veramente tante Per una vita sola E Quindi sarò sempre Nel casino Non vorrei Non vorrei auto Autocondannarmi però Insomma vedo che la verità è un po' questa Aspetta 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 Ecco Perché abbiamo bisogno Di un po' di tronchetti qua Bastoncini Per fortuna non abbiamo visto ancora nessuno Ah brava lo sto già facendo Però non avrà tutto Proprio Eh no Perché abbiamo un cazzo di rocce Solo 5 Ne puoi portare Percato Grande Un po' più nell'angolino Eh l'avrei messo Un po' più fuori dalle palline E mo' Ecco qua Minchia Bruciamo i soldi Abbiamo i soldi Mamma mia Cioè tu dimmi Che non ti piace una serie ASMR qua Cioè sei fuori Sei malato Cioè cos'è Cioè cos'è Voglio Ho quel cerbiattino lì Che ti guarda così Ecco quindi ragazzi E Ah sì Ecco anche l'uccellino Spettacolare Ragazzi per questo episodio qui E' tutto Io faccio un salvataggio Sovrascrivo qui Che avevo sbagliato Il primo appunto Il salvataggio dell'altra partita E anche il secondo Era un salvataggio Però avevo sbagliato Quindi lo riscriviamo lì Questo era il primo episodio Abbiamo stabilito La nostra casa E il nostro farò Nel prossimo Già sono interessato Prima che mi vada male Un po' di carne qua Finché è fresca ancora Voglio assolutamente Fare un essicatoio E poi inizieremo A provvedere un po' di acqua In qualche modo Se si può O faremo un po' di esplorazione Vediamo Non ho molti programmi Per il prossimo episodio Vediamo semplicemente Esplorando In cosa ci imbattiamo E ovviamente E' opportuno Fin da subito Secondo me Iniziare a costruire Muraglie E cose varie In caso ci vengano A trovare ovviamente I nostri soci Bene Per questo episodio è tutto Saluto 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 Per questo episodio è tutto Grazie per la visione Ci vediamo Al più presto Sto aspettando che Ciao Ciao